Alla ricerca del mare, siamo quasi arrivati, eccolo laggiù, dovremmo essere quasi arrivati, ecco laggiù il mare, andiamo da dove ci possiamo firmare, questa è un'area protetta. Allora abbiamo parcheggiato una macchina e adesso a piedi si scende. Isarutas. Ragazzi riprendo dopo perché c'è già gente, sono le otto e mezza, che spettacolo ragazzi. Dove? In mezzo. Spettacolo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.